I problemi della giustizia italiana non sono quelli che ruotano attorno alle cosiddette scarcerazioni, alle considerazioni sul ministro della giustizia, al relativo dibattito parlamentare su emozioni di sfiducia, questa è tutta roba per informazione che deve tenersù, la tensione, la temperatura ed è tutta roba per politica politicante. Nel frattempo è successa una cosa di gravità straordinaria che in parte è sfuggita all'opinione pubblica anche perché i mezzi di comunicazione non hanno lavorato a far capire cosa è successo ed è un tema sul quale il disastrato e il diroccato Consiglio Superiore della Magistratura dovrebbe lavorare seriamente anche perché non è limitata al posto dove è accaduta, è una condizione generale ed è ripeto una condizione gravissima. Cosa accade? Accade che dalla procura di potenza vengono spiccati dei mandai di cattura e avvisi di garanzia che colpiscono il capo della procura di Taranto e quello di Trani. l'ipotesi è che ci siano dei reati relativi alle indagini, l'influenza sulle indagini, aver richiesto di piacere eccetera. Vale per loro come vale per tutti sempre la presunzione di innocenza. Il punto qual è? Il punto è che quelle procure lì sono quelle che sono state protagoniste di inchieste molto importanti e sfociate nel niente dal punto di vista delle conclusioni processuali. Per esempio le accuse alle agenzie di rating di penalizzare l'Italia, truccare il mercato perché le loro considerazioni sull'affidabilità dei debiti dovevano essere sottoposte al giudizio penale, pensate un po'. E quando noi osservavamo, scusate ma che c'entra la procura di Trani come una cosa di questo tipo? Perché? L'interesse nazionale. Esito? Zero. Inchiesta sui vaccini che provocano l'autismo, che sono state questa anche benzina sul fuoco di un movimento dissennato, medioevale, superstizioso, i vaccini salvano la vita, tutte le cose, anche i bicchieri d'acqua hanno delle controindicazioni, ma non diciamo scemenze. Che fine ha fatto l'inchiesta? Niente. L'ilva di Taranto, da dove è cominciato tutto? Le procure che dicevano ti arresto se lasci aperto, ti arresto se chiudi. Che fine hanno fatto dagli esiti processuali? Ancora stiamo aspettando. Loro sono i protagonisti e oggi hanno una disavventura. In che consiste questa disavventura? Posto che esiste la presunzione di innocenza. Loro non lo hanno mai sottolineato. Ma noi siamo persone civili e lo sottolineiamo per loro. Esiste la presunzione di innocenza. Qual è? Avere tentato nei confronti di un collega, sostituto procuratore, di far accusare un signore che evidentemente gli stava sulle scatole e avevano interesse ad accusarlo, anche se non c'erano gli elementi. Ma scusa, ma che ci fai con un'accusa se non ci sono gli elementi? Tanto, se non ci sono gli elementi, quello lì sarà assolto, no? E no. Ed è questo il punto. Ed è questo il cancro che ammazza l'Italia. Perché loro sanno benissimo che quel conto è l'accusa, non il giudizio. Voi ve lo ricordavate? L'esito dei procedimenti sui vaccini? Ma le accuse ve le ricordavate? Questo è il trucco. L'accusa che prevale sul giudizio. L'accusa che sta su tutti i giornali. L'accusa che porta in televisione il procuratore. L'accusa che ne fa il giustiziere. E la difesa e il processo? Ma chi se ne importa? Sono cavilli per avvocati. Questo è il trucco che usano. Ed esattamente per questo ha un confondamento, anche se spero che siano totalmente innocenti, l'idea dice accusalo tu intanto che lo roviniamo. E poi dopo se sarà assolto, la cosa che sarà nota ai loro parenti. Questa roba qui non riguarda Taranto, Trani, Potenza. No, questa qua è la condizione della giustizia italiana. Perché se non c'è il giudizio e non c'è con un giudice terzo e in tempi ragionevolmente brevi, se non mandi in galera i colpevoli e liberi dal sospetto gli innocenti, la giustizia non c'è. Tanti saluti e la notizia che anche i procuratori finiscono in galera non compensa nulla. Aggrava.